3, 2, 1, bello a tutti ragazzi, io sono il Solina Santa Fox e siamo tornati all'interno della Minecraft Fox signori, è notte, ma a noi non ci interessa niente, perché quest'oggi mi sono fatto dei razzetti eh, sono stato bravo eh, mi sono fatto dei razzetti, ma aspettate, io ho gli scarpini d'oro, sì, ok allora, quest'oggi signori, andremo a fare la nostra prima farm di raid non ne ho mai fatta una all'interno del mio mondo, non so se funzioni, ho deciso di non farla da questa parte porco cane, ma di crearla nella nuova zona, perché comunque lì abbiamo solo un villaggio che è anche alquanto fortificato quindi nulla di male, andiamo subito a farla allora, volevo anche approfittarne per farvi vedere che bravo che sono stato, dai, me lo merito un complimento signori ho fatto le scalette completate, va che bello, ho messo pure le lucine, ho tolto le torce ho fatto questa zona un po' più carina, ci potrebbe stare, sì, ci sta e, signori e signori, state pronti, state tutti pronti, perché sì, qua è terminata ma questa è fantastica non ce n'è, signori, questa è bellissima a parte che sopra ho sempre degli ospiti, ma vabbè, quello è relativo oddio, non mi dire che piglio uno di quei maialini, perché sennò sto inguaiato qua, eh ok, via volete te ne vuoi andare, ciccio? Grazie via ok, allora, signori, qua avevo creato, come vi dicevo, l'altra stazione di partenza ho fatto le quattro gabbie per gli scambi ci sta alla grande, sì, sì, sì ci sta alla grande e, niente, là si continuano a farmare maiali e altri personaggi strani credo che comunque sia creerò una zona qua sotto di spawn dove farò spawnare quei maiali per poterli mettere qua dentro e avviare così anche i miei scambi ma quest'oggi non siamo qua per questo motivo, ti prego, dimmi che ho con me un carrello signori, ho lasciato via tutti i carrelli, davvero? sì, ho lasciato via tutti i carrelli niente di male facciamo una piccola volata fino alla nuova zona in modo da poter tranquillamente avviare la nostra farm di ride nuova versione, la prima, signori ci proviamo allora, poi, per oggi mi sono voluto fermare con le costruzioni ma ho in mente delle costruzioni per abbellire questa zona ragazzi, da da far paura, secondo me, quindi state sempre aggiornati e pronti perché qualcosa di carino ci esce sicuro allora, andiamo ma io non ho da mangiare, non ho mangiato io devo sempre mangiare quando faccio sti passaggi ok? non ho creeper alle spalle, quindi va bene, va bene così vogliamo nel nostro villaggetto buongiorno, signori dopo aver mangiato, signori dov'è la mia, dov'è la pala? io dovrei avere una palla nell'inventario? ah no, forse l'ho persa maledizione ok, non capisco perché i villager sostino sempre davanti casa mia se ne dovrebbero andare questi signori, dovete sparire da davanti casa mia, capito? e poi dovremo iniziare a portarci via tutte quante ste schegge degli animaletti perché comunque sia, signori va fatto vanno spostate va presa un po' di robetta vanno fatte le armature per i cani allora domanda numero uno togliamoci prima di tutto l'oro da tasca che tanto non ci serve dove, caspita, ho messo ok, ferro ce l'ho buoni va benissimo togliamoci questi che non servono questi servono le casse sì, ci servono no, non ci servono via le casse no, beh, le casse ce ne servivano non è vero? Due almeno ok facciamo tre facciamo tutte quante va via se ne parla più solo quattro di pietra ci serviranno direi che più o meno siamo a posto allora dobbiamo trovare una zona alquanto più o meno vivibile diciamola così sì più o meno vivibile per poter fare questa nostra piccola farm di ride non la volevo fare vicino al villaggio e questo è sacro santo da questa parte abbiamo la nostra fortezza dei pillager che va benissimo quindi cercando di restare in quest'isolotto io direi che questa zona potrebbe essere alquanto carina allora terra qua ciccio grazie va di là non c'è nessuno di malvagio perché io ancora pulisco così quando ho i secchi d'acqua con me che sono un toccasana sono per favore quando funzionano come vuoi ok diciamo che al momento abbiamo pulito tutto perfetto si può partire allora la farm è lì poi tireremo giù due alberi iniziamo a creare un allora uno due tre quattro cinque tre quattro cinque un bel cinque per cinque che non ci dispiace ma era un cinque per cinque scusatemi vediamo perfetto perfetto cinque per cinque è perfetto il primo secchio d'acqua è andato poi quattro di pietra le mettiamo sull'angolo dove si va a fare la chiusura erano otto di pietra erano otto santolino otto vado a prendere il materiale e arrivo dopo la figuraccia allora sono tornato a prendere la pietra è quello che andava fatto e va bene dovremo portarci anche un villico per questo la voglio creare qua abbiamo il vantaggio che adesso riesco a trasportarlo con la barchetta l'unico problema è questa zona dei pillager però se lo porto di giorno non dovrebbero esserci problemi allora atterriamo qua già circondato dalle pecore allora ritorniamo dove eravamo prima signori eh stavolta ce li ho i materiali eh stiamo buoni allora abbiamo detto dall'angolo dove praticamente si va a unire l'acqua 1 2 3 4 5 6 7 e 8 ok adesso con delle slab che io ce le ho sì meno male che ne ho fatte di più perché pensavo di aver sbagliato a farne di più andiamo a chiudere questa parte se non vado errato va chiusa così e qua sotto ok devo stare alzato andiamo a metterci un bel cartello non ci scriviamo niente ok adesso riprendiamo la nostra palla scendiamo di 1 piccone 2 e 3 perfetto qui andiamo a creare una stanza 3 per 2 adesso vi faccio vedere allora scendendo lasciamo uno spazio 1 2 3 1 2 e 3 e questa già va bene così poi rompiamo questo blocco e qui sotto ci mettiamo il più semplice la compostiera così il villico si trova già un lavoro perfetto adesso io dovrei tornare su via perché anzi facciamo così oddio io non la vorrei fare proprio così così però questo dovrebbe essere questo dovrebbe essere il nostro ingresso segreto mettiamola così quindi recupera qua chiudi qua vai verso l'alto abbiamo anche delle scalette con noi no perché giustamente chissà dove le abbiamo lasciate ok tiriamoci su con la terra poi qua andremo a farlo ok adesso ci andiamo a creare ho portato la lana no me ne manca di lana me ne manca ho una pecora bianca mi serve pecora bianca qua è sempre pieno di pecore ripariamo subito all'assenza della pecorella come vi dicevo andiamo a crearci tranquillamente il lettino che ospiterà il nostro villico allora mi manca pure le oddio mio ma mi manca un sacco di roba però eh facciamo così portiamoci questa con noi sotto così andiamo a lavorare più tranquilli ok allora appoggiamo momentaneamente qui la nostra crafting che poi ci servirà sempre comunque andiamo a creare subito del legno che abbiamo già nell'inventario andiamo a creare il letto che ospiterà il nostro villico e va messo se non mi sbaglio va fatta una nicchia qui ok e andiamo a mettere qua il lettino del nostro villico perfetto adesso ci andiamo a creare una bella barchetta ok adesso barchetta fatta allora patigliari amicizia lunga qua mettiamo un altro cartello poi secchio d'acqua cartelli non ci dovrebbero più servire lo andiamo a piazzare qua ottimo abbiamo poggiato già il lettino qui e va benissimo adesso ci andiamo a creare prima spacchiamo qua 1 2 e 3 blocchi ok adesso andiamo a mettere qua 1 e 2 chest ci andiamo a creare con il ferro che abbiamo e con la cassa no forse la cassa no dobbiamo crearci un imbuto e la andiamo a collegare qui facciamo un test perfetto ci entra tutto fantastico ok e fino qua ci siamo signori quindi avete tutto chiaro io vi faccio vedere mi soffermo pure così almeno vedete tutto al meglio adesso per essere più comodi come diceva il tutorial spaccate qua prendete la barchetta la piazzate ci salite su andate il più dritti possibili ok poi vi girate e scendete fantastico adesso io una cosa me la sono un po' scordata però mannaccia a me e i materiali che mancano dobbiamo fare aspetta un attimo come si fa qua ok ci serve allora riprendi qua dobbiamo fare un pentolone come si faceva il pentolone ok pentolone fatto e il pentolone va messo aspettate che guardo bene perché poi non voglio sbagliarmi perché sennò stiamo inguaiati il pentolone va messo qua sopra messo qua sopra il pentolone ci si mette dentro un secchio di lava ok fantastico e dovremmo essere a posto mi sa ok adesso dobbiamo portare solo il villico andiamoci a creare delle scalette allora come erano le scalette se non mi sbaglio erano semplici semplici si tre bastano avanzano e superano uno due e tre ecco quando arriviamo quassù casomai ci mettiamo la botolina e siamo più tranquilli allora dovremmo essere quasi a posto qui andiamo a mettere una botola perfetto ok questa forse qua non ci doveva andare forse non sono contento che sono uscito da questo lato avrei dovuto controllare prima la direzione sì però vabbè non è un problema adesso non resta altro che portare qua il villico detto niente signore ci creiamo una barchetta e proviamo a partire con l'avventura allora io cercherei di togliermi tutto ciò che è inutile dall'inventario e andrei subito subito a rapirmi un villico un prescelto vediamo dove eccolo qua il nostro prescelto prego no ciccio venga qua salga sulla barca adesso io lo attacco con la corda ce la faccio attaccarlo con la corda sì allora quello che ho visto è che se io salgo il villico viene con me se io volo con i razzetti il villico vado a perderlo ma se volo senza i razzetti non dovrebbe esserci alcun problema cerchiamo di fare un volo unico quindi ci alziamo il più possibile poi non so come dovrò fare per tirar la giusta cosa ok villico sei pronto? l'elitra ce l'ho partiamo dimmi che mi sta seguendo sì c'è cerchiamo di spostarci dai pillager il più possibile il villico è ancora dietro di noi dai per poco signori per poco non ci siamo arrivati villico ci arrivi villico fantastico fantastico signori allora vieni su vieni con sta barchetta muoviti allora io non voglio che il villico muoia quindi facciamo una cosa andiamo a recuperare prima il secchio a casa allora qui ci servirà un secchio vuoto e un secchio con la lava ahia mi sono preso l'albero in pieno ok allora facciamo una cosa prima che il nostro villager ci resti secco sistemiamo questa cosa veloce veloce abbiamo preso la lava saliamo su la barca qua deve stare il più avanti possibile ok perché se no giustamente il nostro caro villager ci rimette allora ciao ciccio vai sotto no non così non così perché perché faccio i danni ok il villager come avete visto ha già preso il lavoro e siamo tutti molto contenti specialmente lui ottimo adesso apriamo qua signori se funziona qui siamo a posto secchio di lava ok il nostro villager è salvo io direi che la farm così è finita ma giusto per rendervi più contenti dobbiamo solo adesso andare a casa il grosso è fatto la farm è finita signori adesso voi sapete benissimo che per attivare il ride dobbiamo attivare il bedomen e lo troviamo nella farm nella magione dei pillager e questo l'abbiamo fatto a magione accampamento insomma chiamatela come volete signori adesso quello più potente l'abbiamo perso la volta scorsa quando siamo morti nel nether che era quello da un'ora e mezza se non mi pare qui potremmo avere forse ancora quello normale eccolo qua vediamoci ce ne abbiamo uno da un'ora e quaranta un'ora e quaranta tutte un'ora e quaranta ok però c'è il livello 2 io direi di attivare questo di livello 2 per fare una prova quelli più grossi ce li teniamo per quando andremo nelle nuove trial chamber nuove sapere al chamber sono nuove perché è una nuova che troviamo ah già ora mi scordavo signori maledizione non devo mi stavo scordando una parte veramente importante un ultimo secchio di lava che ci servirà immancabilmente ok stavolta non mi faccio male ce l'ho fatto ho mantenuto la promessa lo piazziamo qua ok la farm è finita signori adesso noi ci dobbiamo solo mettere qua sotto in afk attivare tranquillamente questa qua la resistenza al fuoco mi serve mettiamoci questa addosso l'elita sempre disponibile i razzetti di fianco bisogna sempre stare attenti e pronti un attimo da qualsiasi avvenienza e vediamo se parte il ride pronti no non così così ok il ride parte signori perché non mi sta partendo il ride non mi dire che ho il villaggio troppo vicino oh my god quel villico però c'è oh c'è signor villico lei sì dove stanno sta partendo sta partendo ok incrociamo le dita signori ciccio villico buongiorno allora devo aspettare qualche minuto vediamo quanto tempo passa ok signori i primi pillager sono arrivati andata così easy ok ho sentito la trombetta loro è giusto per guardarmi intorno per capire per capire indostano io non li sto vedendo signori non so voi ho sentito pure il corno vedo zombie ma non vedo pillager eccoli là e perché non vedono non vedono qua forse la casa non lo so vediamo se ah sono tutti qua sotto sono va bene signori tanto dura un'ora e quaranta io resto qua e poi vi farò sapere nel prossimo video nel frattempo vi saluto con questo è tutto alla prossima